Sei comuni della Valle d'Itria presenti insieme per la prima volta al TTG di Rimini, la fiera dedicata all'industria turistica internazionale, giunta alla 55esima edizione. 2.550 imprese, 150 destinazioni rappresentate per 1.500 baiere provenienti da 90 paesi, i numeri della manifestazione che rappresenta la prima uscita ufficiale per la promozione unitaria della Valle d'Itria da parte di Alberobello, Ceglie Messapica, Cisternino, Locorotondo, Martina Franca e Ostuni. Qui al TTG di Rimini, fiera appunto nota per la presenza dei operatori turistici, degli albergatori, di coloro che investono nel nostro territorio, investono nel turismo, noi siamo qui per dimostrare loro e per iniziare con loro un rapporto di collaborazione come territorio Valle d'Itria con gli operatori che investono nel nostro territorio. Il nostro scopo è proprio quello di collaborare e di creare rete fra le istituzioni, le strutture alberghiere e recettive e far sì che questa rete e questa unione di comuni la presentiamo anche all'estero, quindi facciamo conoscere la Valle d'Itria anche nelle altre nazioni. Un percorso condiviso portato avanti dagli assessori al turismo e al marketing territoriale dei rispettivi comuni che hanno dato vita a un programma univoco per lo sviluppo dell'area con l'obiettivo di fare della Valle d'Itria una destinazione turistica d'eccellenza. L'essenza di questo progetto sta nel mettere insieme appunto un'unione dei comuni formale della Valle d'Itria, per fare questo siamo partiti da un protocollo d'intesa che ci vede coinvolti in una serie di iniziative e attività riguardanti il settore prevalentemente del turismo. Quando si parla di un unico territorio si cercano sicuramente gli obiettivi da sottolineare, da rimarcare, quali nel nostro caso l'autenticità, le tradizioni, tutto quello che ha messo nelle condizioni la nostra terra e quindi il nostro angolo di mondo, quale la Valle d'Itria, tra le mete più ambite in quest'ultimo periodo.